Eccola qua, guardate che bella questa cabina telefonica, questa è un'icona di Londra, è una Red Telephone Box che poi vedendola così, a me questa cabina telefonica londinese ricorda un po' casa, dice possibile, come mai? Sì, credetemi, perché queste cabine telefoniche le facevano a Dragona, verso Ostia Antica, vicino casa mia c'era la Proceder, che faceva, ora non c'è più la fabbrica, queste le facevano e poi le mandavano a Londra io vedevo questi camion pieni di cabine londinesi che andavano via e io a Londra, dopo tanti anni, 30 anni dopo ci sono andato a Londra, non tanto per la città in sé, che me frecava, ma tanto per andare a vedere dove i londinesi le avevano piazzate tutte queste cabine, hai capito? Londra, Londra, guarda che belle cabine, Londra, vedi? Londra, bella città, 9 milioni di abitanti provenienti da qualsiasi latitudine, vedi Londra che la rendono la città più multietnica d'Europa, Londra, crogiolo di stili, culture e teatro di qualsiasi innovazione sì perché nella vecchia Europa Londra è senza dubbio la città più aperta alle novità, anzi le novità a Londra si può dire che le crea, eppure un posto così proiettato verso il futuro, una città così piena di civiltà se tu turista capiti a Londra e vai in un albergo, magari un bell'albergo chic, expensive, 6-7 stelle d'albergo mille pounds a notte che tradotto in euro sono 1200 euro circa, beh in una di quelle stanze belle con una terra mochetta e col letto a baldacchino, con attaccate le pareti i ritratti di lord inglesi, tutti morti nel Settecento perché pare che nel Settecento in Inghilterra ci sia stata una moriata e lord uno dietro l'altro infatti già da ritratto tu dici lo guardi, dice madonna questo come stava male, nell'Ottocento questo non ci è arrivato sicuro, ecco, e poi c'è la parete di fronte col mobiletto, apparentemente in uoco invece le spigna un bottone esce dal mobile un televisore gigante, 60 pollici già acceso con la BBC incorporata che te dice le notizie in inglese è sincopato che tu hai poche lezioni, sai solo che the cat is near the window and the pen is on the table e quindi hai difficoltà a capire Londra, questa bellissima città, queste bellissime camere questo bellissimo albergo ti condiscono al cuore, ma tu sei curioso e quindi vuoi guardare la stanza da vicino da lontano, vuoi andare a cercare il bagno per 1200 euro e tu vuoi andare a vedere bagno apri questa porta che dà sul bagno, sul bathroom, bathroom, questo è una piazza d'armi cento metri quadri del bagno che è più grande del salotto di casa mia, tutti marmi italiani per terra marmo di Carrara, attaccate ai muri e tutto marmo travertino, specchi di qua, specchi di là 6-7 lavandini, che uno dice ma siamo solo in due, non importa, a un lavandino te lavi i denti, a un altro te lavi il viso un occhio da una parte e un occhio dall'altra e con la vasca idromassaggio, la vasca jacuzzi come dicono loro che uno gli avrebbe dire jacuzzi, una cosa so, te la devi imparare, jacuzzi, no jacuzzi col videotelefono da una parte attaccato al muro, imperante, pieno di numeri, poi ti guardi intorno perché dici mi manca qualcosa, c'è tutto, pure il phone, però ervater, erbagno a casa mia c'è ervater, ma qui non lo vedo se lo saranno scordato poi, dici ma non può essere, non può essere che a Londra, come il paese, la civiltà più evoluta non c'è erbagno poi, guardi meglio, in un angolo c'è una porta piccola, mimetizzata tu pensi, beh è una porta finta, ci staranno le scope, mo io apro, troverò le lenzuola, le asciugamani puliti e invece no, apri dentro, in questa sorta di ripostiglio senza finestra, con un aspiratore che si accenne appena apri la porta, c'è il vater, quasi nascosto, c'è un vater praticamente in castigo che tu dici, ma perché sta lì? E il vater è dalla stessa famiglia, Pozzigginori, è fratello al lavandino, ma perché? tutti i lavandini sono Pozzigginori perché il vater sta in penitenza, infatti i lavandini, dove stai? c'è esso, c'è setto, dove stai? sto qui ma vieni con noi, non posso, c'ho tutti i tubi attaccati ma che hai fatto per star lì? Non lo so, mi hanno messo qui, mi hanno relegato qua giù perché io dico, io non mi spiego, io vorrei dire, inglesi, io vi voglio bene ma perché dovete mortificare tutto quello che riguarda le funzioni corporali? oh, il bagno è di per sé una cosa naturale e noi italiani lo sappiamo, io ne andiamo fieri da sempre noi italiani già, addirittura degli antichi romani un imperatore gli ha dato il nome al bagno, o io dì, Vespasiano oh, io non lo dico tanto per voi quanto per il turista che vuole le sue soddisfazioni specialmente con quello che uno se magna all'estero perché un italiano quando va all'estero magari ama anche assaggiare altre cose tu esci la mattina, bello, ti metti le scarpe, il fantasmino, le cose esci, magari col dolce vita legato dietro e vai a Londra, ti vai a visitare la city ti prendi la cartina, tutta a piedi perché hai paura di prendere, di sbagliare l'autobus e ti ritrovi a Manchester e per strada, quell'anguore, no? e assaggi, pillucchi, un fish and chips da una parte un po' di porridge dall'altra poi la sausage and mash, che sarebbe poi le sarcicce e i fagioli e continui, giri, assaggi, cammini un po' di fried chicken, un po' così dopo un po', dopo sei settore che vai a girare, hai le vesciche ai piedi dietro perché il fantasmino si chiama così perché come lo metti sparisce nella scarpa c'hai le scarpe piene dei piedi, gonfi così hai digerito quello che hai mangiato e dopo un po' arriva quello stimolo, no? anche perché come si dice polvere siamo e polvere amore ce l'ho un pizzo un pizzo quindi sbrigamosi a tornare in albergo amore e una volta in albergo tornati in albergo tu non vorresti stare penalizzato in uno sgabbozzino pesco e arbuio con l'aspiratore acceso ti vorresti, dopo quella bella passeggiata con le vesciche ai piedi, vorresti riprenderti quella bella rivincita, no? col panorama e davanti cioè tu vorresti un bel bagno con un bel finestrone da 20-30 metri quadri che dà sul London Bridge il vater alzato da specie di trono che guardi Trafalgar Square vedi il cambio della guardia addirittura su Buckingham Palace perché io, cari inglesi per 1200 euro a notte io voglio vedere la regina che mi saluta mentre la faccio io per 1200 euro a notte voglio il ciambellano de corte che mentre io vado al bagno annuncia boom, boom, boom Mr. Brignano made it all la fa tutta che poi a dire la verità noi maschi italiani in queste cose siamo anche un po' sentimentali in effetti sì perché noi italiani siamo legati al made in Italy ci affezioniamo molto a quello che produciamo quindi noi maschi italiani dopo che l'abbiamo fatta un ultimo sguardo di addio glielo vogliamo dare tu lo vedi lì nel momento del commiato in alcuni casi se lo sforzo è stato tanto scende anche una lacrima come a dire ciao caro ti ho voluto bene sei anche un po' parte di me addilla tutta mesomi pure ci abbiamo la stessa temperatura corporea oh salutami tutti gli altri ciao ciao poi non senza un velo di tristezza tiri lo sciancuone e ciao addio non lo vedi più questo in Italia all'estero no io non so perché perché all'estero a Londra per esempio anche se l'albergo è innovativo il sistema di diciamo scarico di smaltimento è vecchio come il cucco per cui tu c'hai il water sopra c'è il contenitore che non è quello sai lo sciaccuone che è la catenella più velo no sta lì spinge il tasto sopra quello non drena subito no c'è un afflusso di acque se inonda che tu dici oh te andrà via oh dove vai ma che risali oh ma andò sta oh amico te andrà via e te gira gira inondato rotea su se stesso in un vortice spaventoso in un ingorgo che tu dici ma dove vai andrà ma sta a girare la testa e già ti viene per istinto di alzarti oh ti viene paura perché tu già te immagini le sondazioni del tamigi dici oh già te immagini al telefono al bagno alla reception hello hello help help yes may help you yes receptionist i have a problem yes sir what your number room number room number eh 401 yes of course what can we do for you sir eh ok listen up yesterday i hated fish and chips and porridge yesterday today square house what eh come te lo dico yesterday 401 ok mister brignano yesterday fish and chips today blue cake blue cake come square house square square house i can't understand sir i can't understand you oh keep calm sir e che stai carman parteciufoli qui se sta alla gara stai risalire tamigi dalla camera mia non lo so io i can't understand eh via ta a vedere da solo tiè guarda un po eh per una donna in effetti è diverso eh io per esempio non ho mai saputo che le donne andavano al bagno io ho scoperto che le donne andavano al bagno da poco da pochi anni da una decina d'anni ho saputo che le donne per costituzione vanno al bagno perché io ho sempre immaginato da ragazzo che le donne evacuassero d'ardito cioè elegantemente una donna va lì si appoggia in un posto e e e e spleta e spurga come i rumachi così elegantemente invece la donna pare che vada al bagno come noi pare in effetti non è così perché una donna in Italia già ce va poco raramente la vedi uscire dal bagno raramente figure dall'estero all'estero la donna all'estero voi per il cambio di cibo per il cambio di latitudine voi per il jet lag non se sa comunque la donna è sempre costipata anche 15 giorni al viaggio di nozze è sempre però lei non va al bagno ma controlla le volte che ci vai tu le controlla le conta e ti dice amore ma è già la terza volta che vai al bagno che tu dici ma che me le stai a contare scusa perché lei in effetti non sembra ma se le segna corta qui no perché poi un giorno davanti al giudice quando è al momento della separazione lei te le rinfaccia davanti al giudice hai capito signor giudice lo vede quest'uomo apparentemente innocente questo è andato anche quattro volte al giorno glielo dico io l'ha fatto per umiliarmi signor giudice e poi ti chiede più alimenti che uno dice scusa se mangi poco e al bagno non ci vai e alimenti che mi chiedi a fa per dire però comunque arrivi di corsa in albergo perché hai camminato tanto c'hai le vesciche ai piedi ma lei in quel momento vede la tua diciamo la tua esigenza però lei ti precede ti dice amore so che tanto tu ci starai tanto vado prima io e tu dici oh madonna via faccio l'occhi di fuori no amore ho lo stimolo sai se io perdo l'attimo è finita e che devo fare mettiti in salotto dai per favore vai in salotto ti accendi la tv ma non me va io lo sto in piedi no no mettiti seduto sul divano e alza il volume della tv che io mi sento più tranquilla lei va in bagno si chiude a sei mandate che uno dice ma chi deve entrare mette il chiavistello mette i coccodrilli col fossato l'asciugamano arrotolato sotto al sarcicciotto per chiudere qualsiasi fessura e fa le sue cose e tu intanto fai zapping in cerca e quindi passi dalla bbc e poi alla siena arrivi addirittura fino al canale 700 al jazira arrivi e dici mammo non c'è un canale manco a pagarlo oro ad un certo punto in quel silenzio senti che proviene da venire dal bagno ding 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 tu dici amore ho fatto ma che te so caduti gli spicci nel water no no mi sono liberata apri un po' e lei apre non ci credi vai a vedere amore eh hai visto madonna era quasi un mese che non andavo guarda quanta ma che so passare dei capretti del presepe Che è sta roba? Ma che caprette? Oh, caprette? Ma io mi sento più leggera Eh, guarda quanta Amore, guarda quanta Per favore, dai Fai largo a un professionista Dai, retta a me Che devo fare? Vado di là? No, esci dall'albergo Arza il volume a cannone Anzi, fai scattare pure l'allarme antincendio Apri le finestre che deve fare corrente Che qui, a un mio cenno Io scateno l'inferno